Nel calcio come nella vita ci sono segnali che vanno interpretati ed oggettivamente quelli arrivati fin qui dai playoff del Foggia hanno qualcosa di unico. I rossoneri scrivono una nuova pagina di storia con un'altra incredibile ad un certo punto insperata rimonta e trovano con il subentrato Beretta il gol qualificazione a cinque minuti dalla fine dopo che all'intervallo il discorso sembrava ormai archiviato a vantaggio del Crotone. La squadra di Delio Rossi in tribuna per squalifica soffre maledettamente nei primi 45 minuti in cui a spadroneggiare è l'undici di Zauli che parte forte la mette sul ritmo e al sesto va già vicino all'avvantaggio con Tribuzzi dal masso salva in angolo. Lo stesso dal masso cinque minuti più tardi compie un autentico miracolo dopo un liscio di Contec che libera Tribuzzi davanti al portiere. L'estremo difensore del Foggia si oppone prodigiosamente. Sedicesimo ancora Crotone conclusione a giro ancora di Tribuzzi e palla di poco fuori dallo specchio della porta. Al diciannovesimo è Chiricò a provarci direttamente sul calcio di punizione. Altro brivido conclusione sul fondo. Al minuto 22 il Crotone va in gol sullo spiovente di Chiricò, Dursi spizza e Tribuzzi mette dentro ma in chiara posizione di fuorigioco segnalata immediatamente dall'assistente. Vantaggio invalidato ma solo rinviato perché il Foggia si vede solo con una ripartenza prima della mezz'ora che porta alla conclusione finale di Friggerio rimpallata in angolo da un altro ex Gigliotti. Al trentunesimo il Crotone però passa in vantaggio e di fatto annulla il golletto messo a segno da Peralta all'andata. Mogos lancia lungo direttamente da rimessa laterale, Dursi spizza, Contec perde Cernigoi e quest'ultimo raccoglie e insacca trafiggendo dal masso. 1-0 e Copione che cambia. Eil foggia ora a dover rimontare ma le speranze sembrano svanire poco prima dell'intervallo quando dà gli sviluppi di un calcio d'angolo e il francese Gigliotti a battere ancora dal masso di testa. 2-0 e qualificazione praticamente in frigo. Ma che? Il Foggia ormai lo sanno tutti non muore mai. Ad inizio di ripresa il vice di Rossi Limone manda dentro Rutiens e Di Noia per Di Pasquale Peterman. Il Foggia sembra tutta altra cosa e al cinquantesimo accorcia le distanze con un tocco forse anche fortunoso di Friggerio che inganna Branduani e mette nell'angolino. A quel punto il Foggia comincia a crederci, il Crotone che ha abbassato i ritmi appare invece impaurito. I calabresi tuttavia si rendono pericolosi al 61esimo, cross di Chiricò e deviazione pericolosa di Contec dal masso salva. Passa un minuto e per alta rega la palla Chiricò che tutto solo davanti a dal masso centra clamorosamente il palo. Il Foggia però cresce nel palleggio e soprattutto nella convinzione. Il Crotone dà segnali di nervosismo. Al 66esimo l'arbitro è Spelle Del Rico che Zauli si era conservato in panchina per la semifinale. Rossi e Limone rispondono mandando dentro Beretta per Iacoponi e proprio Beretta prima di lasciare il campo per infortunio. Fa esplodere i 500 tifosi nel settore ospiti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo raccoglie e insacca in girata. 2 a 2 è un gol che può valere la qualificazione alle semifinali. Un gol che il Foggia difende a denti stretti nell'interminabile finale. Il Crotone ci riprova al 93esimo. Cernigoi non inquadra lo specchio da posizione invitante. Poi dopo ben nove minuti di recupero l'arbitro dice che è finalmente finita. Ancora festa tutta rossonera a Crotone ed a Foggia dove i Caroselli hanno tenuto sveglia la città nella notte. Una città che ora non vuole più smettere di sognare.